Tra l'altro le confermo che gli uffici hanno già sollecitato le risposte, quindi provvederemo quanto prima. Le chiedo tra l'altro, prima di lasciare la parola al senatore Arrigoni, se poi per caso questo accordo è pubblico, se addirittura potremmo averne il testo, se lo lasciamo anche al verbale sarebbe veramente per noi utilissimo. Quello tra il ministero e gli interni relativi a questa numerica che non credo sia nel decreto, vabbè, vediamo quello che possiamo ottenere. Senatore Arrigoni, Lega Nord, scusi il senatore Frusone Cinque Stelle che non si era prenotato. Sì, grazie Presidente, Sindaco. Allora, oggi apprendiamo che non è vero che esiste un parametro da 2,5 richiedenti asilo per 1000 abitanti, ma questo parametro suddiviso in base alla dimensione dei comuni è costato che è peggiorativo per i piccoli comuni a vantaggio delle città metropolitane. Mi pare di poter dire di no, perché voglio dire se un comune ha 200 abitanti si prende 6 immigrati, quindi fino a 2000. Quindi se un comune ha 200 abitanti quanti richiedenti asilo? 6, quindi è peggiorativo per i piccoli comuni a vantaggio delle città metropolitane. Detto questo, visto che i tre parametri sono tre, avete valutato qual è la capacità complessiva del Paese, posto che se il parametro era 2,5 abitanti per 60 milioni avremmo avuto 150 mila sostanzialmente capacità contro un dato esistente che già ci dice che sono 175 mila i richiedenti asilo, barra persone che hanno già ottenuto lo status di rifugiato nel sistema di accoglienza. Quindi voglio dire, è un numero questo sottostimato, mi verrebbe da dire se tutti i comuni aderissero al protocollo del lanci probabilmente tutto questo non sarebbe sufficiente per contenere il sistema di accoglienza. Faccio un ragionamento vuoto per pieno, che mi veniva semplice con il parametro di 2,5, ora non conoscendo la distribuzione del comune. Ecco, però una domanda le voglio fare, Sindaco, perché qui ci sono state date versioni diverse, ovvero sia che nel sistema SPRAR permangono delle persone che già avevano ottenuto lo status di protezione internazionale o nazionale. In altri casi invece, come penso di aver capito da quanto ha detto lei, chi aderisce al sistema SPRAR probabilmente riceve nel suo territorio anche tra virgolette dei semplici richiedenti asilo. Ecco, vorrei capire qual è la versione corretta. Nello SPRAR ci sono solo persone che hanno ottenuto lo status di protezione o anche semplici richiedenti asilo. Perché guardi, questo è fondamentale, perché penso di farmi interprete della protesta di molti sindaci, io lo sono stato fino a poco tempo fa, che la protesta deriva dal fatto che il nostro Paese accoglie una massa di persone alla cui fine di un percorso che dura, come ha detto lei, tre anni, solo il 5% ottiene lo status di rifugiato. O meglio, la maggior parte, si dimostreranno, sono clandestini. Quindi quella domanda che le ho fatto è fondamentale. Allora, faccio anch'io quella che ha detto Orellana. Chi aderisce al sistema SPRAR e ha già sul suo territorio un cassa, questo viene immediatamente rimosso, qual è la tempistica, l'avete concordata o diversamente. Sul fondo di 500 euro a migrante, cosa significa? Che se un comune ospita per un mese, voglio dire, gli arriva il migrante all'inizio di dicembre, questo ha diritto a percepire i 500 euro, oppure i 500 euro sono riconosciuti per la permanenza di almeno 8 mesi, 9 mesi, un anno. Questo giusto per trasparenza nei confronti dei sindaci. Mi pare di poter dire, se non ricordo male, che per il 2016 i 500 euro sono stati garantiti con una legge che ha preceduto la legge di stabilità, sul triennio viene garantito, oppure solo sul 2017. Sulla carta di identità, l'iscrizione all'anagrafe comunale, i sindaci sono molto preoccupati, lei lo sa benissimo, sono stato contattato da molti di essi. Lei ha detto che non è possibile negare l'iscrizione all'anagrafe comunale il rilascio della carta di identità per chi ottiene un permesso di soggiorno. E questo può anche star bene, ma siccome oggi viene posto a loro il diritto di richiedere il rilascio della carta di identità nel momento in cui uno richiede asilo, ecco io questo lo trovo veramente sconfolgente, lo ha ammesso anche il prefetto Morcone, che si era anche impegnato in qualche modo a mettere mano a questo problema, che purtroppo noi non vediamo risolto nel decreto. Allora io le chiedo, essendo il Presidente del Lanci, di farsi portavoce a tutela dei molti sindaci, perché questo è veramente un problema preoccupante. È preoccupante perché poi c'è un altro aspetto, la sparizione di molte persone che lasciano senza informare il CAS o il Centro Spar, impone a voi sindaci un avvio di un procedimento che è lungo e costoso per la cancellazione dell'anagrafe comunale di un richiedente esilo barra persona che ha ottenuto uno status di protezione. Altra cosa, la garanzia che i migranti... Lascio ascoltare, no, prego, prego. No, no, è giusto, dai. Ti faccio supportare dopo. Ah, c'è una domanda tecnica. No, 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 era per cortesia. No, no, l'ascoltiamo. No, ma non era per... Cioè la garanzia che queste persone che sono sul proprio territorio non debbano gravare sul bilancio comunale in ordine ai servizi di welfare. Voi l'avete chiesta o meno? Infine, anch'io voglio avere... Io sono rimasto, sono sovvazzato sulla sedia sentendo il suo dato di 25 mila euro a migrante in ordine al riempatrio. Le chiedo una... No, 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 perché voglio dire potrà sembrare alto ma pure mantenere un richiedente asilo nel sistema di accoglienza che dopo tre anni si dimostra essere clandestino tre anni ci costa oltre 35 mila euro quindi più di questo costo del riempatrio. Infine, l'ultima domanda, mi scuso con i colleghi. Lei non ritiene per avere un quadro complessivo del sistema dell'accoglienza, della gestione degli immigrati del nostro paese che i numeri ufficiali che oggi sono in ordine agli ingressi relativi solo agli sbarchi debba essere ricompreso, integrato anche dei numeri non meno importanti di coloro che arrivano via terra e non sono poche decine di persone ma sono decine di migliaia e che quindi sono un affetto importante rispetto ai 150 mila lo scorso anno 170 mila persone che sono state registrate come ingressi via mare. Grazie Un sacco di domande Onorevole Falcone, Partito Democratico